Noi padri quasi mai parliamo di sessualità con i nostri figli. Anche a scuola non esiste nessun genere di attività di educazione affettiva o sessuale obbligatoria. I nostri figli quando entrano in pubertà si fanno un sacco di domande, hanno moltissimi dubbi, devono esplorare conoscere, sono anche molto curiosi e questo è assolutamente fisiologico. Le ricerche ci dicono che la quasi totalità dei nostri figli maschi fa domande all'online, entra in un motore di ricerca e molto velocemente poi viene dallo stesso motore di ricerca oppure dagli amici indirizzato ai siti pornografici. È lì che i nostri figli esplorano e imparano la sessualità. In un sito pornografico impari cosa vuol dire fare sesso, certamente non impari cosa vuol dire fare l'amore. Della sessualità cogli gli aspetti eccitanti, cogli le azioni ma non impari invece la dimensione relazionale, la connotazione emozionale. Non riesci a distinguere che differenza c'è fra eccitazione e intimità. Questa è certamente un'emergenza educativa e noi adulti ne dobbiamo essere responsabili.